Ciao, sono Elena di Biflex Italia. Oggi vi presento la nuova serie BF Sport. La serie con il termoadesivo perforato, studiato per dare maggiore carattere alle divise sportive e molto altro. La serie BF Sport è disponibile in 5 colori, bianco, giallo, rosso, blu e nero. BF Sport è composta da un film in poliuretano microforato coprente con finitura opaca. Grazie ai soli 80 micron di spessore risulta molto semplice da sfridare e da applicare, lasciando una mano molto morbida al capo. Per lavorare al meglio con BF Sport consigliamo di fare grafiche grandi e di utilizzare il bianco sui tessuti scuri stampati in sublimazione. Questo perché il film bianco è dotato di un barrierante aggiuntivo che lo rende subli-stop, cioè evita la possibile migrazione del colore che può avvenire sui tessuti tinti o stampati in sublimazione. Ma che applicazioni possiamo fare con la serie BF Sport? Date le sue caratteristiche, è adatta per applicazioni su tutti i tessuti, cotone, sintetici misti e anche poliestere trattati in processo sublimatico. Inoltre, grazie alla microforatura del film e ai soli 80 micron di spessore, il film risulta molto leggero e si presta particolarmente alla tecnica del sormonto. Vediamo come. Facciamo l'applicazione con la tecnica del sormonto. Utilizziamo il subli-stop 80 come base e sopra andiamo a sormontare con il BF Sport di colore rosso. Procediamo. Pressiamo il capo prima di applicare per stirarlo e togliere l'umidità. Bastano due secondi. Applichiamo il primo film su blistop 80, 80 micron di spessore con il barrierante su blistop che blocca la possibile migrazione del colore. Applichiamo a soli 130 gradi per 8 secondi. Rimozione del liner a caldo. Ora sormontiamo. Utilizziamo il film BF Sport di colore rosso. Prima procediamo con lo sfrido. Sormontiamo. Il film BF Sport si applica a 145 gradi per 10 secondi. Rimozione del liner a caldo. Ecco il risultato della tecnica del sormonto con il film BF Sport perforato. Come vedete la mano risulta molto morbida. Procediamo ora con la personalizzazione della parte superiore della divisa sportiva. Abbiamo già spellicolato il film BF Sport Subli. Come vedete il suo retro è grigio. Ora procediamo con una prepressata della t-shirt. Posizioniamo il film. Il film BF Sport Subli si applica a soli 130 gradi per 8 secondi. Rimozione del liner a caldo. Ecco il risultato. Grazie per aver visto questo video. Seguiteci sui nostri canali social. Ciao!